devo fare la bella dopo suoi se gli arrivi la coda a dc come sono le mie anime eccola ma di nuovo la stessa cosa pezzo di merda cazzo ma fatto da mamma stavo troppo sul davanti stavolta te l'ho schivato secondo me non si può fare lo sai si cazzo ma fatto danno per il salto agli indietro no oddio ti ho dato qualcosa no no infatti non è il mio mondo quindi si dava davanti quindi non si fa tanto per ma per tutte le cose ma per tutte le cose possiamo dire di avergliela tagliato dai cazzo mi sono incastrato sotto di lui tantissimo cazzo 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 non mi fare danno non mi fare danno oggetto a rischio la spada oggetto rotto spada vabbè lo uccido con la spada rotta ah cap l'abbiamo fatto è messa rotta la spada i boss facili sono finiti l'abbiamo fatto